Cannuccia filatore Con due cannucce puoi costruire un fantastico filatore. Prendi una cannuccia larga e una lunga 10 cm e piegala nel mezzo. Pizzica entrambi gli angoli piegati, prima il sinistro e poi il destro. Aprendo vedrai una bellissima apertura a forma di diamante. Poi, con del nastro adesivo, chiudi e sigilla entrambe le estremità della cannuccia. Taglia l'eccesso di nastro. Poi, pizzica un angolo di estremità per creare una piccola apertura. Pizzica anche l'angolo diametricamente opposto dall'altra parte. Ora l'elica del filatore è pronta. Per il tubo, per soffiare, prendi metà di una cannuccia e pratica un taglio a forma di V a due o una estremità. Ora la cannuccia filatore è pronta per ruotare. Posiziona la tacca a forma di V del tubo dentro all'elica. Chiudi quell'estremità della cannuccia e soffia forte dall'altra estremità. Chiudi chell'estremità della cannuccia.